L'ospedale Santo Stefano si prepara al chiuso per ferie. Il periodo più critico, quello nel quale si concentrerà la chiusura di un centinaio di posti letto sui 576 disponibili, si aprirà già il 5 giugno e proseguirà fino al 24 settembre, con oscillazioni che seguiranno la programmazione varata nei giorni scorsi dai vertici dell'ASL Toscana Centro, che hanno definito nel dettaglio anche il piano ferie degli altri ospedali dell'area. Da lunedì prossimo i letti in meno saranno 26 nell'intero nosocomio. Dalla prossima settimana i posti delle degenze mediche settore 2 passeranno da 56 a 42, riduzione che resterà in vigore fino al 10 settembre. Dal 12 giugno al 24 settembre perdono lo stesso numero di posti letto le degenze mediche settore 3. Il reparto subintensiva dovrà fare a meno di 4 letti su 20 dal 5 giugno al 24 settembre, mentre la chirurgia sesta ne conterà 40 sui 47 disponibili dal 26 giugno al 30 luglio e addirittura 22 tra il 6 e il 27 agosto. Nella settimana tra il 28 agosto e il 10 settembre i letti aumenteranno a 28 e dall'11 al 17 settembre saliranno a 40, per poi tornare al numero iniziale. Il reparto di pediatria e neonatologia passerà da 34 a 26 posti letto dal 5 giugno al 24 settembre, chiusura totale per i 22 posti letto di chirurgia primo settore dal 17 luglio al 17 settembre e per i 12 letti di obbi osservazione intensiva dal 14 agosto al 3 settembre. Niente ferie invece per psichiatria, dei ospital oncologico e neurologico, medicina polispecialistica, neurologia, adegenza e stroke, malattie infettive, rianimazione, cardiologia intensiva, ortopedia, medicina 3, medicina d'urgenza e ostetricia. Complessivamente i posti letto che verranno a mancare saranno 99 nel picco massimo di ferie, 3 in meno rispetto all'estate del 2016. Grazie